oggetto naofrichi prima di iniziare. Di fronte a una reazione io spero che possa esserci delle stesse banche che possano tutelare quella missione fondamentale di essere vicini ai territori, agli imprenditori e non alle lobby che invece controllano questo provvedimento che fa davvero delle banche ancora una volta uno strumento di potere per clientelismi davvero beceri per il sistema del Paese e in questo caso anche per la regione Sardegna che si trova a dover subire con il silenzio della regione stessa uno strumento, un provvedimento, un decreto legge davvero in fausto per il sistema bancario e economico del Paese. Grazie, onorevole Pili. È iscritto a parlare il deputato Rocco Buttiglione. Prego, una facoltà di piazzato. Grazie, signora Presidente. Signora Presidente, onorevoli colleghi, con questo provvedimento ancora una volta il Governo si addentra sul terreno rischioso e minato delle banche e del sistema bancario. Le banche non sono molto popolari oggi in Italia. Anzi, esiste una campagna continua, violenta, di cui sentiamo gli ecchi anche in queste aule, che se la prende continuamente con le banche e con i banchieri. Non senza qualche ragione, ma forse non avendo esattamente presente qual è la funzione di un sistema bancario in una economia moderna. Naturalmente è comprensibile l'artigiano, il commerciante, il piccolo imprenditore, anche il grande imprenditore, che va dalla banca e chiede un'estensione del credito per poter sopravvivere e non la riceve, tende a pensare che il direttore della banca sia la causa di tutti i suoi mali. Talvolta è vero, talvolta anche no. Credo che sia sfuggito a molti, anche in quest'aula fino ad oggi, il fatto che il sistema bancario italiano ha attraversato un periodo di profonde, gravissime difficoltà, le quali hanno imposto interventi anche di sostegno nei limiti di ciò che è consentito dall'ordinamento europeo per evitare un tracollo che sarebbe stato foriero di danni gravissimi per tutto il sistema italiano. Consentitemi di ricordare che molti anni fa, qualche 2500 anni fa circa, proprio da queste parti, ci fu una sollevazione del popolo, soprattutto la plebe, che si ribellò contro i patrizi e anche contro la nobilità, che non erano solo patrizi, che erano un po' i ricchi, quelli che facevano i prestiti e svolgevano un po' la funzione anche delle banche, qualcuno direbbe degli usurai, e fecero una secessione sul Monte Sacro e le autorità del tempo, il governo del tempo, mandò loro come mediatore un nobile rispettato dal popolo, un tale menino grip, che raccontò una storia in cui paragonava l'organismo sociale al corpo umano, spiegando che sì, le mani, le braccia, le gambe, ce l'hanno con lo stomaco che sta lì e assorbe tutte le ricchezze e sembra non fare niente, però è da lì che esse vengono anche poi redistribuite in tutto il sistema, alimentando il sangue e la possibilità per tutto il corpo di vivere. Per il sistema economico di una nazione moderna, la situazione non è molto diversa. Anche qui il sistema bancario ha la funzione di assorbire risorse per redistribuirle e fare in modo che tutto il sistema possa funzionare. Noi abbiamo vissuto una fase in cui questo non è successo in modo corretto. Perché? Si sono assommate diverse cause della crisi. La causa forse più drammatica, scatenante, è stata la nascita e il diffondersi di un nuovo modo di fare banca. Il modo tradizionale di fare banca prevedeva che il banchiere prende i risparmi della gente per prestarli a chi vuole intraprendere un'attività o oppure a chi ha già un'attività in corso. E quando presta, il banchiere è un po' come un confessore, deve valutare la persona a cui presta, il cosiddetto deve valutare il merito di credito, deve valutare se questo qui è una persona per bene, se fuggirà con la cassa oppure se resterà e pagherà il debito al tempo opportuno, deve valutare se uno bravo è capace oppure se è uno incapace o un megalomane. E siccome nessuno è totalmente affidabile, deve accantonare riserve che corrispondono al rischio inerente a quel prestito. Buttiglione è una persona per bene, abbastanza bravo, sicuramente restituirà. Certo, se gli cade una tegola in testa, muore e non restituisce. Allora, siccome la probabilità è abbastanza piccola, accantoneremo una riserva abbastanza piccola. È venuto un tempo in cui nuove tecnologie bancarie, elaborate per lo più a Wall Street, ci hanno insegnato che non si fa così, che questo è un modo vecchio, superato di fare. Ci hanno insegnato che i crediti dubbi, i crediti non quelli non performing, quelli che prevediamo che non saranno performing, li possiamo incartare e rivendere sul mercato. Abbiamo avuto una grande distribuzione utili alle aziende bancarie, accantonamenti ridotti di riserve e mercati inondati da titoli ben camuffati, ma che in realtà erano carta straccia. È come quando c'è un laghetto in montagna e una villetta scarica le fogne nel laghetto, finché lo fa una sola il laghetto assorbe. Quando lo fanno tutti il laghetto diventa una fogna. Siamo arrivati a un punto, 2007, 2008, 2009, in cui le banche non sapevano più quale fosse il valore reale dei titoli che loro stessi avevano in portafogli e non si facevano neanche credito le une con le altre per paura di questo. È stata la grande crisi bancaria. L'Italia ne è stata in larga misura risparmiata. Qualcuno negli anni precedenti voleva modernizzare il sistema bancario italiano. Ci sono state grandi battaglie per la modernizzazione del sistema bancario italiano. Tutto sommato i modernizzatori non hanno vinto. Ed è stata una fortuna, perché le nostre banche parlavano ancora a dialetto piuttosto che inglese e non andavano al mercato dei derivati o al mercato gestito dai cosiddetti diapsis, gli young urban professionals, quelli che facevano tanti soldi con le nuove tecnologie bancarie. Abbiamo subito anche noi la crisi, perché ovviamente la crisi è stata finanziaria, quella economica ha altre radici, anche se è stata fatta esplodere dalla crisi finanziaria, ma aveva radici più profonde. Ne siamo stati parzialmente risparmiati e abbiamo commesso un errore. Questa è una mia opinione personale. Quando tutti quanti hanno avuto la possibilità di intervenire con forza per sostenere le loro banche, noi essendo stati meno toccati da quella crisi, non l'abbiamo fatto. O l'abbiamo fatto solo in una misura molto parziale, il monte dei Paschi di Siena, anche quella a condizioni non particolarmente vantaggiosi. E quindi quando il sistema si è ripreso, ci siamo trovati che gli altri erano diventati forti e noi eravamo rimasti deboli. E lì abbiamo cominciato noi a subire la crisi, che aveva radici diverse da quelle degli altri. In parte derivava dal clima generale che si era creato. Ma in parte è derivata da un fattore esterno e due fattori interni. Il sistema, essendosi bruciato, ha introdotto nuove categorie di giudizio molto più stringenti. Ha chiesto che le banche fossero più capitalizzate, che avessero più soldi e chiedendoli di essere più capitalizzate, ha anche inventato nuove regole. Queste nuove regole in Italia sono state recepite male, anche perché sono state capite in ritardo e anche perché sono state negoziate in buona parte non tenendo conto degli specifici interessi italiani. In talvolta si ha l'impressione che chi ha negoziato non avesse chiara la situazione reale che c'era in Italia. Cosa è successo? Richiedere di aumentare il capitale proprio, introdurre una particolare responsabilità di alcuni tipi di obbligazioni. Erano cose che hanno sconcertato il risparmiatore italiano. Il risparmiatore italiano non era abituato a vedere le banche fallire, perché c'era una solidarietà di sistema che non le faceva fallire e perché lo Stato eventualmente interveniva, e poi era abituato a considerare le obbligazioni come assolutamente sicure. E adesso, con le nuove regole, le obbligazioni, almeno alcune obbligazioni, quelle primarie, non sono più sicure, sono esposte a rischio. Quanta gente ha comprato queste obbligazioni perché davano un rendimento un poco più alto, senza rendersi conto che ieri non erano esposte a rischio, oggi invece lo sono. E d'altro canto si è richiesto un potenziamento dal punto di vista del capitale proprio, o comunque delle forme assimilabili a capitale proprio, comprese questo nuovo tipo di obbligazioni, c'erano anche prima, ma con una regolamentazione diversa. Cosa che ha costretto le banche a fare meno credito? E allora abbiamo avuto un fenomeno strano. Gli interessi cadono, perché la Banca Centrale Europea inonda il sistema di liquidità, ma se si ha un prestito magari lo si ha a condizioni molto buone, ma averlo è difficile, perché la Banca può fare meno prestiti. È una delle contraddizioni anche del sistema europeo, che con una mano dice, prestate per sostenere l'economia, vi do io i soldi, vi li do a zero interessi. E con l'altra mano dice, non fatelo, perché se lo fate eccedete la quantità di prestiti rispetto al capitale che avete e quindi vi esponete a dei rischi. È stato il problema del conflitto fra la European Banking Authority e la Banca Centrale Europea. Ed è oggi un conflitto interno alla Banca Centrale Europea tra chi ha il compito della vigilanza microprudenziale e chi invece gestisce quella che potremmo chiamare i livelli globali di erogazione del credito. In questo contesto sono emersi anche alcuni difetti nostri vecchi, che abbiamo per lungo tempo messo di curare, ma che abbiamo anche fatto bene a non curare subito, perché ci hanno in parte difeso da questo nuovo modo di fare banca. Noi abbiamo una grande tradizione di credito locale. Le banche popolari, le banche di credito cooperativo, banche legate al territorio, che sono una ricchezza per il territorio, perché sono banche le quali appunto non parlano inglese, parlano il dialetto, fanno prestiti sul territorio, non comprano obbligazioni a Wall Street e neanche a Londra e quindi sostengono lo sviluppo dell'economia locale. La banca del territorio è una grande ricchezza per il territorio. Ed è un problema nostro oggi quello di tutelare questa ricchezza, tutelarla tenendo conto di due cose. Una, questa ricchezza è legata anche con alcuni vizi. Il legame col territorio significa molte volte l'infeudamento a gruppi di interessi territoriali, che possono essere il comune, soprattutto quando il comune rimane per 60 anni nelle mani della stessa parte politica. Possono anche non essere il comune, ma gruppi di famiglie che hanno ruoli importanti all'interno di quel territorio. Possono essere gli amministratori stessi delle banche, soprattutto quando questi sono eletti con sistemi i quali li legano a quelli che lavorano nella banca o comunque a cerchie ristrette. Tutto questo può generare una gestione allegra o triste, come abbiamo visto in un numero significativo di casi di banche, le quali sono risultate alla fine praticamente insolventi o che comunque hanno dato giustificati motivi di sospettare della correttezza del loro modo di operare. Per di più, questo tipo di rafforzamento patrimoniale non è facile da realizzare per tutte le banche. E anche qui si potrebbe dire, ma è proprio necessario questo rafforzamento patrimoniale nella misura in cui le regole europee lo hanno adottato? Perché una cosa, noi abbiamo adottato un po' in tutta Europa, il modello della banca mista. Ma la banca mista, come fatto giuridico, nella realtà poi vede banche che sono prevalentemente banche commerciali e banche che sono prevalentemente banche di affari. E le banche le quali operano sul territorio in una maniera tradizionale hanno evidentemente rischi minori delle banche che trattano capitale speculativo e quindi forse avrebbero avuto anche diritto ad avere una valutazione, un trattamento diverso da quello che è stato adottato. Non so se sarebbe stato opportuno tornare alla distinzione tra banca commerciale e banca d'affari, ma in ogni caso questo punto di vista tipico delle piccole banche, delle banche del territorio, noi lo abbiamo forse difeso senza convinzione sufficiente nei tavoli delle trattative, in particolare a Basilea. Ma questa è una considerazione alla quale non tocca direttamente il testo che stiamo discutendo. E allora benvenga questa nuova normativa che affronta i problemi del nostro sistema delle banche di credito cooperativo. Di cosa si tratta? Noi abbiamo un sistema di credito cooperativo. La cooperazione, come la banca del territorio, è una grande ricchezza del Paese. È il modo in cui accede al diritto di intrapresa garantito dalla Costituzione chi non ha i soldi per intraprendere per conto suo. E la cooperazione è stato un pilastro dello sviluppo di intere regioni italiane. Penso all'Emilia-Romagna, ma penso anche non a tutta la Lombardia, ma buona parte della Lombardia. Penso alla Brianza. Buona parte dell'Italia si è sviluppata attraverso la cooperazione. E ha anche un grande valore politico e morale, perché dice che un sistema di libero mercato non è necessariamente un sistema di capitalismo che esclude la solidarietà. È un sistema all'interno del quale ci possono essere forme di intrapresa le quali sono fondate sulla solidarietà. La solidarietà fra i membri della cooperativa, ma anche la solidarietà delle cooperative fra di loro all'interno del sistema cooperativo. Cosa avviene adesso? Con la nuova normativa europea una parte del sistema cooperativo si trova ad essere esposto, perché gli è difficile adempiere ai criteri di cui sopra. E allora era necessario rafforzare la solidarietà del sistema cooperativo, ma anche dargli la possibilità, attraverso un'adeguata centralizzazione, di un miglior coordinamento che lo rendesse capace di tenere il mare della concorrenza in un mondo in cui la concorrenza diventa sempre più accesa. Il mondo, il lavoro del banchiere è un lavoro in cui la competizione è sempre più forte. Tenere assieme, coordinare le banche di credito cooperativo, dando loro il sostegno di una società alle loro spalle, la quale abbia insieme funzioni di solidarietà e di controllo. Solidarietà e controllo vanno sempre assieme. Chi dà solidarietà giustamente deve e vuole controllare. Faremo bene anche a ricordarlo in sede europea quando trattiamo del problema della mutualizzazione e contemporaneamente del controllo della finanza degli Stati membri. Non faremo molti passi sulla mutualizzazione se non faremo passi altrettanto chiari sul controllo della finanza degli Stati membri. Qui abbiamo un problema formalmente analogo. E la soluzione trovata mi sembra, sembra a noi, che sia una buona soluzione. Non posso nascondere che all'inizio abbiamo avuto molte perplessità. Per un aspetto, il progetto originario che ci è stato presentato era un progetto nel quale si ammetteva un diritto di recesso e di trasformazione della banca di credito cooperativo in società per azioni. Per le banche di credito cooperativo di dimensioni superiori a una certa soglia, i 200 milioni di euro. Questo ci aveva lasciato molto perplessi. Per due ragioni. Una è una ragione di carattere comunitario. Le banche di credito cooperativo hanno accumulato le loro riserve indivisibili nel corso di generazioni e le hanno accumulate col sacrificio dei soci i quali non hanno percepito utili e con il sacrificio dei contribuenti che non hanno preteso tasse o ne hanno pretesi in una misura, diciamo così, contenuta. Questo ha creato le riserve. Ora, è ammissibile che uno paga il 20% delle riserve quando tutte le riserve hanno questa origine solidaristica e ne trattiene l'80%, si trasforma in società per azioni e lui diventa azionista di quella società. Voi potete immaginare che le azioni dei soci di una cooperativa che facesse questo mestiere avrebbero avuto una crescita di valore molto grande. Azioni che oggi valgono poco perché non hanno titolo alla remunerazione e non danno neanche potere di controllo, perché poi alla fine il sistema di voto non è un sistema che dà il potere di controllo a chi ha il maggior numero di azioni, improvvisamente acquisirebbero potere di controllo e diritto alla retribuzione. In alcuni casi si può immaginare che il valore sarebbe schizzato, sarebbe moltiplicato per dieci volte. È giusto? Dal punto di vista dell'ordinamento europeo evidentemente non è giusto, perché in questo modo si dà un vantaggio competitivo, potrebbero anche decidere di distribuire tutto in dividendi, ma comunque si dà un vantaggio competitivo alle banche che fanno questo tipo di operazioni. Sgravate degli obblighi della cooperazione mantengono, almeno fino alla data della trasformazione, il capitale accumulato attraverso i privilegi della cooperazione stessa, giusti fino a un certo punto, non giusti da quel momento in poi. La soluzione trovata, e io avevo presentato, credo per primo, un emendamento che la indicava, mi sembra equilibrata. Rimane il diritto di recesso, ma rimane anche la forma cooperativa e solidale. Si paga una quota di solidarietà al bilancio dello Stato, qui si potrebbe discutere se sia la cosa più giusta, se non andasse usata piuttosto per la solidarietà interna del sistema cooperativo, ma comunque va bene anche il bilancio dello Stato. Il resto rimane riserva indivisibile e la cooperativa come tale acquisisce la proprietà della banca con facoltà anche di emettere azioni ulteriori per rafforzare la banca stessa. Una soluzione equilibrata e credo che meriti di essere approvata. Il tempo non mi permette di toccare un'altra questione fondamentale, cioè quella delle cartolarizzazioni. Mi permetto solo di dire una cosa alla Presidente del Governo. Il problema vero non è la bedbank, non sono le cartolarizzazioni, che sono pure utili, ambedue le cose. Il problema vero è il diritto fallimentare. Fin quando il recupero di un credito derivante da fallimento richiede otto anni, dieci anni, è evidente che il valore di quei crediti sarà molto basso e quindi un vero mercato dei crediti non performing non si potrà sviluppare bene che ci siano o non ci sia la bedbank, che ci siano o non ci siano le cartolarizzazioni. Credo che questo debba essere il prossimo obiettivo a cui si dedica l'attenzione del Governo. Grazie. Grazie, onorevole Buttiglione. Scritto a parlare il deputato Alberti. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Nel mio intervento mi soffermerò principalmente, anzi quasi esclusivamente, sulla questione della riforma delle BCC. Allora, come è nata questa riforma? Da quando è arrivato il provvedimento in Commissione, io e i miei colleghi del Movimento 5 Stelle avevamo subito palesato i nostri timori, le nostre perplessità su questo provvedimento. Voi direte, sai che novità il Movimento 5 Stelle che dubita su un decreto del Governo Renzi. Però abbiamo dovuto, anzi, io personalmente ho modificato un po' la mia percezione su questo decreto. Infatti all'inizio avevamo inteso, e questa comunque continua ad essere una chiave di lettura ancora valida, dicevo che avevamo inteso che questa riforma fosse stata imposta dal Governo sulle banche di credito cooperativo. Imposta secondo una forma di ricatto. O vi fate voi un'autoriforma, come dico io, oppure fate la fine delle popolari. Vedersi l'ultimo decreto sulle banche popolari dell'anno scorso. Poi però hanno incominciato a scriverci alcune banche popolari, soprattutto tutti.